Eh sì, perché così devono essere le squadre in questa categoria soprattutto. È fondamentale questo aspetto, così come è fondamentale avere una squadra compatta e unita anche in mezzo al campo, dove lascia poco spazio agli avversari e poi magari, come abbiamo fatto noi più volte, riparte con i propri giocatori, perché abbiamo giocatori con caratteristiche molto valide nell'uno contro uno in velocità. Per cui siamo stati bravi sia a difendere ma anche a contrattaccare. Anche nel secondo tempo comunque abbiamo avuto un paio di opportunità e questo campo purtroppo non ce l'ha consentito, perché avete visto anche voi come rimbalza la palla. Purtroppo è un problema per noi ma anche per gli avversari, per carità. Per ora sì, per ora non ho voluto cambiare più di tanto perché non è che si può stravolgere quello che si è fatto sia in precampionato e sia nelle prime quattro giornate. Ho i giocatori per poterlo fare e probabilmente continuerò a farlo. Sì, 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 sicuramente sì. Abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita dove siamo andati in vantaggio, dove potremmo fare il 2-0 tranquillamente, non ci siamo riusciti. Poi alla fine l'abbiamo visto tutti come è andata, una punizione che non c'era, però l'arbitro l'ha vista così e abbiamo subito il pareggio. Però siamo felici della prestazione e continuiamo a lavorare per cercare di migliorare. Sì, no, no, il misto ha cercato di non cambiare tantissimo per non stravolgerci, perché comunque era un partito con questo modulo, quindi ha lasciato così e ha cercato di metterci nelle migliori condizioni possibili. Sì, domenica prossima andremo a Pineto, è un'altra partita difficilissima perché Pineto è una delle squadre attrezzate per la vittoria finale. L'anno scorso ero lì e so che ogni anno fanno squadre importanti per cercare di vincere il campionato.